Ehi, quello è il senatore? Ehm, no, direi che occhio è un elicottero. Ma vaffanculo! Ehm, no, direi che occhio. Ehm, no, direi che occhio. Ma vaffanculo! 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 Grazie a tutti. Ehi, Sitara. Sono pronto per entrare. Metti un po' di musica. La polizia del cloud del senatore? Faccio, ma anche da Invite c'è un team che fa... Cerca il modo di ricollegare l'edificio alla rete. Calma, vi faccio entrare nel sistema. Poi usate le botnet per farvi strada con la forza e scaricare tutto il possibile. Ma appena inizierai il download ti scopriranno. Se no, dov'è il divertimento? Ho una sorpresa per loro. Siete dentro. Buon lavoro. La tua via di fuga è pronta. Oh dai, ti piacerà un casino. Bene, Mark. I maniaci della privacy rumoreggiano. Non capiscono la new economy. Sono i lottisti di oggi. Oh, Brent. Questo è pazzesco! Sì! Sì! Tutta la linea di centrale è prestata in linea. Arriva la descrizione del sospetto. Inmediatamente il veicolo! Sì! Marcus, ho il loro piano B. Stanno puntando ai seggi elettronici. Ai seggi elettronici. Sono super protetti. Proteggono i dati solo dopo il voto. Grazie ai dati Invite possono programmare l'esito già adesso. Josh ha scoperto dove sono i seggi elettronici. Ti aspetta fuori da Fort Point. Fort Point. Vado subito. Oh, e Marcus, potrebbe farti comodo dell'esplosivo? Speravo che lo dicessi. Josh, dimmi che non sei lì dentro. Ehi, Marcus, ci sono i cecchini sul tetto. Cecchini? Ma che stai dicendo? Della Umeni. Mi dispiace, non dovrebbero stare qui. Le avrà soldati Dushan. Ma perché sussurri? Non sto sussurrando. Rientro. Lì dentro non ci entro. Senti, domani trasporteranno quelle macchine ai seggi elettorali. Che possiamo fare? Reverse engineering? No, non abbiamo abbastanza tempo per farlo. Hanno un virus militare. L'unica scelta prudente è distruggerle tutte. Distruggerle tutte? E come facciamo? Le bombardiamo? Quel forte è una base militare. È pieno di esplosivi. Senza macchine per votare, l'elezione è rinviata. Sì, sveliamo la corruzione. Così la gente ha tempo per farsi una sua opinione. Sì, Josh, io ci sto, cazzo. E tu ci stai? Ok. Bene. Far saltare i seggi elettronici non è un po' estremo. Cazzo no! Come ha detto Josh, dovranno rimandare le elezioni. È un servizio sociale in realtà. Come ha detto Josh, dovranno rimandare le elezioni. Ehi, non devi toccare quei macchinari. Fate gli affari tuoi. Ho ricevuto. Noi. Noi. Cazzo! Che cosa? Adesso ti schiaccio. Grazie a tutti. Che cosa? 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 Che? Che? Che cosa? Che? 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 Che?